Lui non credeva nel teatro e rideva sempre delle mie fantasie. Così a poco a poco anch'io sbissi di credervi e mi perdetti d'animo. Poi le sollecitudini dell'amore, la gelosia e la continua, paura per il piccolo. Diveni mischina, mediocre, recitavo sconnessamente e non sapevo cosa fare con le mani. Non dominavo più la voce. Tu non puoi capire la sensazione di chi si sente di recitare in maniera orribile. Lei io sono un campiano, ma il centro. Ricordi, uccidesti un campiano. Giunse un uomo per caso, lo vide. E per passare il tempo lo irrovinò. Un soggetto per un breve racconto. Ma che c'entra? Dove ero rimasta? Sì. Alla scena. Adesso io mi sento diversa. Recito con entusiasmo, con piacere. Mi inebrio sul palcoscenico e mi sento bellissima. Poi da quando sono qua io cammino. Cammino a lungo e penso e sento crescere dentro di me le mie forze spirituali. Adesso io lo so, io ho capito, Costia, che nel nostro mestiere poco importa se recitiamo o scriviamo. L'essenziale non è la gloria, non è il lustro, non è ciò che sognavo. Ma la capacità di soffrire. Sappi portare la tua croce e appi fede. Io ho fede. E quando penso alla mia vocazione, io non ho più paura della vita. Ciao. Grazie.